Newport. California. Mini Chandering. 4 dicembre 2016. Salve miei cari, io sono Crayon del servizio magnetico. Per tutti questi anni il meeting è chiamato la sala riunioni a casa, quando il mio partner si siede di fronte a un gruppo come questo. Qualcuno di voi c'è stato. La prima volta ha parlato a un gruppo di queste proporzioni, non molto lontano da qui. È cambiato molto da allora, tranne una cosa. Miei cari, ciò che è in voi, che ogni profeta ha sostenuto che è in voi, è puro come è sempre stato. Non importa quanti anni avete, non importa il vostro stato di salute. Per ora voglio che sospendiate questo. Voglio che pensiate a una cosa. anima antica, sei qui in questo pianeta in un tempo favorevole, per una ragione. Non importa la tua età. Vi abbiamo detto in precedenza che questa è l'energia che avete aspettato. Gli antichi l'hanno predetta, ed è qui. E non solo le profezie degli altri continenti e degli altri paesi, ma anche di questo continente. Chiedete all'insegnante Michelle Karen qual è il significato della roccia di Hopi e delle scelte orlate in modo chiaro su quella pietra riguardo le due strade che si potevano prendere. E questo pianeta ha deciso di cambiarla in modo così grande che tutto ciò che è stato scritto sulla profezia riguardo al futuro farà un fiasco, poiché questa profezia era stata scritta in merito a un altro pianeta e a un altro tempo, non i vostri. Perché voi l'avete cambiata. Non è un errore che voi siate qui. Magari qualcuno di voi è stato sopraffatto quest'anno. Alcuni no, ma un bel numero di quelli che ascoltano questo messaggio. E avete detto, quando finirà la ricalibrazione? Osservate la numerologia e decidete voi. È l'anno del completamento. È un nove, che si muove verso l'anno dei nuovi inizi. La numerologia è una sensazione e un obiettivo generale dell'energia del pianeta e di tutte quelle cose che sono qui. Gli esseri umani rispondono a queste energie con libero arbitrio, ma in generale molti di voi hanno avuto un anno tosto. È il vecchio pensiero umano che prende e proietta nel futuro quello che sapete del passato, e sono qui a supplicarvi di non farlo. Questa sera darò un messaggio che è diverso, vi dirò cose che non avete ascoltato in precedenza e alcune che avete già ascoltato. Ma la premessa sarà la stessa. State iniziando a cambiare voi stessi, la consapevolezza che avete. Vi chiedo, potete percepirlo? C'è qualcosa all'orizzonte, non lo percepite? Non vedete che la luce sta arrivando? Non percepite la fine della sofferenza. Magari la fine di ciò che chiamiamo coincidenze deludenti, di sincronicità che non sono quello che avete pianificato. Tutto questo, miei cari, mette un bastone nelle cose e le mescola, così che voi, insieme a quel bellissimo amorevole Dio interiore, potete entrare nella luce del sole nel 2017. È una metafora che dice. Ho finito, ora cominciamo col piano. Desidero dirvi perché siete qui. Non è per sforzarvi all'interno del piccolo cerchio che chiamate voi stessi. Quello che succederà prossimamente in questo pianeta dipenderà da quello che vi aspettate che succederà. Questo è il potere dell'operatore di luce. C'è un vecchio paradigma, e che sia in relazione con genitori o con una organizzazione, vi vede seduti lì aspettando che accada qualcosa. Vi vede ad ascoltare la saggezza altrui. Vi vede essere riconoscenti e poi tornate a casa. C'è un altro paradigma, miei cari, dove siete voi i predicatori, dove siete voi i genitori, dove letteralmente prendete l'energia con due mani e la muovete verso dove volete andare. Crayon, queste sono delle belle metaforeti andrebbe di parlare in inglese? Ok. Non c'è mai stato un tempo nella storia in cui l'operatore di luce abbia avuto più potere sulla sua consapevolezza. Non c'è mai stato nella storia in cui l'operatore di luce abbia avuto più potere. E questo è dovuto al cambiamento nella coscienza che gli antichi hanno predetto che è qui. Le scritture sui muri delle piramidi nell'America centrale sono letteralmente le parole. Se l'umano passerà a questo punto, ci sarà la più alta coscienza che si sia mai vista. Vi guardate attorno e dite. Beh non per ora, non è vero? E vi dico di sì, perché siete voi di cui si sta parlando, nient'altro. Voi. Eccovi la mia domanda del giorno, in questo brevissimo messaggio. Cosa vi aspettate dopo? Anche alcuni dei più profondi operatori di luce stanno tagliando le frontiere e, in senso metaforico, coprendo le finestre. Non volete neanche vedere cosa avviene dopo, o avete paura di quello che viene dopo, perché non è fatto per voi lo avete classificato. E se vi dicessi, miei cari, che il potere di ciò che vi aspettate creerà quello che succede? Non riguardo le cose importanti che vedete nei notiziari, ma riguardo gli operatori di luce di tutto il pianeta. E potreste dire. Questo è un pensiero piuttosto comodo benvenuti nella nuova energia. È così. Miei cari, quello che vi aspettate otterrete. L'ho detto in precedenza. Se vi aspettate il peggio sarà come effettuare un ordine all'universo, e questo verrà ai gradini della vostra porta dicendo. Ecco il peggio, è quello che hai ordinato. Questo è quanto è intensa. Le parole operatore di luce significano lavorate nella luce. Lavorateci, lavorateci. Voglio che fate un respiro profondo, e mentre quest'anno si rivolge al prossimo, e voi siete ciò, voglio che vedete l'esito più benevolo, voglio che vedete la luce. Voglio che vedete Dio in tutti. Voglio che sorridete quando le cose non vi piacciono e che dite. Questo qualcosa di meglio voglio che vedete la ragione per cui siete venuti. Voglio che vedete la ragione per cui siete nati. Voi contate. Questa è la ragione per cui siete qui. E potreste dire. Beh, vengo solo una volta l'anno. Ascolto Crayon e poi faccio altre cose miei cari, non avete idea di chi siate. Non c'entra quante volte ascoltiate una canalizzazione, ha a che fare con come percepite a livello del cuore dentro di voi. Riuscite a farlo. Riuscite a proiettare, ai vostri figli e ai vostri nipoti, una consapevolezza fantastica che arriva piano a voi mentre vedono la luce venire fuori dall'oscurità in modi strani? Parlerò ancora di questo. Questa sera vi voglio parlare di una pallottola che avete appena schivato. C'è un elefante sotto il tavolo e nessuno ne parla ancora. Devo ancora decidere se sarà permesso il funzionamento del registratore audio. Il mio partner dice di sì. Vedremo. Parlerò di importanti informazioni che voglio che sappiate. Voglio che sappiate che avete un pensiero su certe cose che magari stanno accadendo proprio ora. Non importa cosa pensate riguardo la ragione di questo tempo. Riguarda voi. Ce ne sono abbastanza di voi sul pianeta, proprio ora, che ascoltano la mia voce, per fare la differenza su tutto quanto, tutto quanto. Come pensate e quello che vi aspettate dopo ha più potere di un radar. Voglio che vi prendete un momento. Potreste pensare in merito. Sarà davvero così che sono in grado di fare questo tipo di differenza? Vi chiedo. Perché dubitate di questo? E vi dico ancora. Pensate di esserne degni. Ne parleremo questa sera. Estremamente degni. Siete nati degni. E ora, mentre il sole viene fuori, la ricalibrazione diventa solo un fantasma e le difficoltà cominciano a essere cose del passato, potete iniziare a rilassarvi. Lasciatemi chiedervi. Cosa ti aspetti? Qual è l'ordine che stai facendo? Perché arriverà alla tua porta. Questo è quanto siete potenti. Collettivamente, nelle vostre mani, nelle vostre menti, è la fede della Terra. C'è un uomo chiamato Edward Lawrence, ne parlerò di nuovo questa sera. Eccovi un profondo proverbio che parla di una farfalla che sbatte le sue ali. Quando una farfalla sbatte le sue ali può creare un uragano in poche settimane. L'enunciato riguarda la sincronicità e la consapevolezza, e lui neanche lo sapeva quando lo ha detto. Perché tutto quello che fate, che cambia tutto anche soltanto di un poco, su tutta la linea, può creare enormi cambiamenti. Che tipo di ordine hai intenzione di piazzare, farfalla? Sei semplicemente un'energia o sei un'enorme energia di questo pianeta? Questo è il messaggio, e continuerà a esserlo, compreso quello di questa sera. E così è.